... Sorride Beffardo, quasi un ghigno, mentre i poliziotti lo accompagnano fuori dalla questura. Jeans strappati, piumino nero e pashmina rossa bordeaux. Salvucciorina da ieri sera non vive più a Padova, fine della libertà vigilata. Ora dovrà trascorrere il suo tempo in una casa lavoro a Vasto, in Abruzzo. Una struttura destinata, come spiega il sito del Ministero di Giustizia, a internati per reati di associazione mafiosa o camorristica che stanno insieme a detenuti affetti da gravi patologie psichiatriche. Festini a base di droga, acquisti di cocaina e incontri con pregiudicati registrati dai poliziotti dello SCO e il Servizio Centrale Operativo hanno caratterizzato questi anni di vita a Padova del figlio dei boss. Molte le violazioni degli obblighi, addirittura una mattina all'alba è stato sorpreso mentre accompagnava la fidanzata alla navetta per l'aeroporto. Insomma, una doppia vita. Rina Junior era arrivato nella città del Santo nell'aprile del 2012 dopo aver passato alcuni anni in carcere per una condanna per associazione delinquere di stampo mafioso. La bella vita padovana ora però è finita e per lui inizia un nuovo percorso in Abruzzo. Per gli inquirenti in questi anni non ha perso la sua indole e il suo comportamento.